Allora, sono arrivato su, passo i radici, 4 ore 27, ero poi 25, solo che ho fatto delle foto dei ragazzi, va bene lo stesso, passo i radici e adesso proseguo. Vado giù a Castelnuovo Garfagnana, ho 24 chilometri di discesa e poi dopo ho 17 chilometri di nuovo a tornare su per San Pellegrino.